Sì Sì Bravissime Grazie ragazzi dello staff Vi ricordo che siamo in diretta Facebook Sulla parte del Demi di Stata Cinque E anche sulla parte dei Waysnazionali che volessi seguire. Ed ora abbiamo il piacere di avere con noi il testimone di questi campionati di ginnastica artistica femminile e garza del 2018 che si esibirà qui al corpo libero signori Lara Mori Grazie 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 Quindi un palmaresse di tutto il rispetto Ti facciamo fare un saluto ancora al nostro pubblico poi ti consegniamo un regalo il regalo che hai fatto tu a noi a essere qui oggi Ringrazio di nuovo tutti mi ha fatto davvero molto piacere essere qui oggi e vedere tutto questo pubblico per questo sport meraviglioso Grazie Chiamo qui accanto a me Assessore dello sport di Cattolica Assessore al turismo e fra poco Assessore dello sport di perfetta tenuta cinica Nicoletta Di Vieni che vi dà il saluto della città di Cattolica con lo spero che vi ha ambientato e trovato bene È un vero piacere essere qui oggi ho fatto già l'apertura e trovarmi qui e per avere l'amore come testimonia io vorrei portare i saluti di tutta l'amministrazione del nostro sindaco e ringrazio ancora a Telega 75 per aver portato questo campionato qui a Cattolica e aver creato così un bel momento di sano divertimento di sport e di turismo Grazie mille bene la manifestazione continua la gatta continua vi chiedo ancora un ultimissimo grande applauso di parlare molto bene e dopo questo bellissimo intervento continuiamo la gara le finanze possono arrivare a pezzo si portano al terzo il pezzo di gara ti stavo aspettando solo per un ultimo saluto ci vediamo tra pochissimo verso le 17 con la nostra mascotte Pasqualo tante altre sorprese ci sarà anche un'intervista a Lara ma non vi sguardo saluto la Giulia bene comincia la Giulia rossa al corpo libero un minuto di prova